Si presenta con un estratto di Il buio oltre la siepe in una versione particolare interpretata da Gregory Peck, la versione cinematografica. A voi Roberto Mascia. E ho detto colpa, signori, perché è stato il senso di colpa a motivare il suo contegno. Ella non ha commesso delitti, ha semplicemente violato un rigido, severo e antico codice della nostra società. Una regola così severa che chiunque la violi viene cacciato dalla nostra comunità, come un cane rabbioso. E lei doveva distruggere la prova del suo errore. Ma qual era la prova di questo errore? Tom Robinson, un essere umano, che tutti voi li avreste seguiti nel preconcetto, è il falso preconcetto che tutti i negri mentono, che tutti i negri sono fondamentalmente degli immorali, che non bisogna mai fidarsi di lasciare un negro vicino a una donna bianca. Un preconcetto inevitabile nelle menti di quel caldo, e che è fondamentalmente falso, e sul quale non mi sembra necessario che io insista. Grazie. Grazie. Grazie.